Giovanna Cucè, buongiorno, benvenuta nel nostro studio, Ani buon mattino. Buongiorno, Giovanna. Accomodiamoci pure. Giovanna, giornalista, tra l'altro siciliana, giovane donna, che stamattina ci porta la storia di Rita Atria, settima vittima, come diceva Giacomo, di Via D'Amelio, ma stamattina noi ci vogliamo prendere del tempo per raccontare questa storia, per raccontare chi era Rita e perché ne parliamo adesso. Quindi facciamo un passo indietro, raccontiamo questa giovane ragazza che vive in una famiglia che sembrerebbe normale, almeno a lei sembrerebbe normale, innamorata follemente del suo papà, con una mamma, dei fratelli, però piano piano in realtà a casa sua vede che arrivano dei poliziotti in piena notte, qualsiasi cosa succede nella loro zona. Raccontaci dove ci troviamo e cosa sta succedendo. Ci troviamo a Partanna, siamo negli anni 80, tra gli anni 80 e gli anni 90. All'interno di questo libro, con Graziella Proto, giornalista, allieva di Pippo Fava, giornalista ucciso da Cosa Nostra Catanese, come ricorderete, e Nadia Furna, il vicepresidente dell'Associazione Antimafia di Itatria, abbiamo ricostruito innanzitutto il contesto, perché quello è importantissimo. È la Sicilia di quegli anni, piena di contraddizioni, da una parte la mafia, dall'altra l'antimafia. Quella è la terra anche di Matteo Messina Denaro, il latitante che ancora si cerca, ma è anche la terra del riscatto. Questo bisogna sempre ricordarlo di Danilo Dolci e delle sue battaglie sociali, civili. A Rita viene strappata l'infanzia e l'adolescenza, da chi diceva di volerle bene, da chi diceva di amarla, ma in realtà non era così. Un padre che lei idealizza, il padre era un estorsore, il padre si macchiava di determinati reati. Rita assorbiva, Rita era molto intelligente. Le persone che abbiamo sentito, in modo particolare, la sostituta procuratrice, che adesso è presidente del Tribunale di Marsala, ci racconta che lei era dotata di un'intelligenza superiore. Lei a un certo punto arriva, quando diventa un po' più grande da adolescente, ad interrogare, tra virgolette, la madre, per farsi raccontare di quel contesto che lei viveva, che aveva sotto gli occhi quotidianamente. Perché diciamo che a Rita viene strappata l'infanzia e l'adolescenza? Perché le viene tolto il gioco, le viene tolto tutto quello che noi da bambini abbiamo fatto. e lei se ne renderà conto soltanto dopo aver incontrato questo enorme uomo, questa figura di magistrato di Paolo Borsellino, che per lei finirà per rappresentare non soltanto il volto buono dello Stato, quello che protegge, che tutela, ma anche probabilmente quel padre che non ha mai realmente conosciuto e che non ha mai realmente avuto. E anche quel fratello che aveva perso, forse, in qualche modo. Quel fratello che aveva perso. E come Graziella ha provato all'interno del libro e noi diciamo che aveva contribuito probabilmente a strapparle quel pezzo di infanzia e di adolescenza e che lei aveva finito per mitizzare. Poi seguirà l'esempio della cognata Piera Aiello e la strada segnata, quella guida, rappresentata appunto dal magistrato, dal giudice Paolo Borsellini. Hai detto di un incontro con Paolo Borsellino, hai detto di... In realtà siamo andati anche molto avanti, siamo andati a Rita che diventa testimone di giustizia. C'è ancora, Giacomo diceva appunto, un fratello che doveva essere la figura maschile che rimaneva in famiglia. Fratello però sempre comunque mosso solo dal voler vendicare la morte del papà, dal voler vivere una legge che molto spesso purtroppo è quella della vendetta e non quella della giustizia. Rita assorbe questo valore, però in realtà lo modifica completamente. Sì, perché Rita, ed è quello che ci è stato spiegato, va in conto ad una sorta di rapida autopsicoanalisi interiore, passatemi questo termine, che è complesso, ma penso che nel libro sia anche spiegato attraverso queste tappe che lei vive con l'incontro innanzitutto con il giudice Borsellino, come abbiamo detto, e con le sue sostitute procuratrici, quelle che realmente a un certo punto la prendono per mano e le fanno capire che quel padre che lei ha tanto umitizzato era un estorsore, che si era macchiato di delitti, di reati, stesso discorso per il fratello. Quindi lei passa dal voler soltanto vendetta, come appunto dicevi, al chiedere giustizia, che è un altro discorso. Quindi lei all'inizio non è mossa da il senso della giustizia, racconto allo Stato perché così aiuto la giustizia e aiuto i magistrati, perché racconto tutto quello che so, no, non è niente di tutto questo, e lei non c'è l'ideale della giustizia, arriverà dopo. Attraverso questo passaggio da Partanna a Roma, località di protezione. C'è un filo rosso che sembra intrecciare la storia che avveniva 30 anni fa e la storia che viene raccontata oggi. Tutto ciò che riguarda Rita ha a che fare con un mondo femminile, privata come era dal mondo maschile. Anche nel momento della ricerca di giustizia, in quello che viene definito dallo stesso Borsellino, processa, proprio perché la componente femminile era molto ampia e non è un caso che siate tre donne a riaprire i faldoni che riguardano una storia che continua a far parlare di sé perché la morte di una giovanissima, di questa giovanissima ragazza, aveva 17 anni all'epoca, ha ancora tutta una serie di aloni che vanno svelati. Sì, 30 anni dopo. Molte volte ci hanno chiesto perché proprio adesso? Perché avete lasciato che passasse, che trascorresse tutto questo tempo? Innanzitutto perché non è facile buttarsi a capofitto dentro questi, che abbiamo definito, archivi polverosi di tribunali e procure. È stato un lavoro molto difficile, molto duro e noi ringraziamo quei presidenti di tribunali che ci hanno aperto gli archivi perché il lavoro sta tutto lì e noi siamo profondamente convinte che c'è qualcosa che deve ancora essere investigato. Noi abbiamo tirato fuori, abbiamo fatto semplicemente il nostro mestiere di giornalista cioè porre delle domande. Semplicemente questo perché da quel fascicolo dell'indagine sulla sua morte ci sono troppe domande che restano e che sono ancora sospese. Ci sono troppi punti interrogativi. L'associazione antimafia Rita Atria assieme alla sorella di Rita Atria, Anna Maria, hanno depositato una richiesta di apertura indagini. Ci sono altre fonti che noi abbiamo contattato e che ci hanno raccontato dell'altro che all'interno del libro non troverete però noi siamo profondamente convinti che il nostro ruolo di giornalista l'abbiamo assolto fino in fondo e adesso il nostro compito spetterà i magistrati. Quindi ci fermiamo. Il fascicolo sul reato aperto è morte come conseguenza di altro reato. Noi andiamo un attimo in pubblicità ma dopo la pubblicità abbiamo raccolto ha raccolto per noi Serena Cirillo una testimonianza quella di Lucia Rossi che l'ha vista proprio negli ultimi attimi della vita e soprattutto ha assistito in qualche modo a qualcosa che potrebbe cambiare il corso delle indagini dopo la pubblicità. Nella strage di Via D'Amelio 30 anni fa morirono come ben sappiamo sei persone ma c'è una settima persona che viene considerata vittima appunto della strage di Via D'Amelio questa donna questa giovanissima ragazza si chiama Rita Rita Atria ne stiamo parlando insieme a Giovanna Cucè autrice insieme a Nadia Furna e a Graziella Proto di Io sono Rita Rita Atria la settima vittima di Via D'Amelio Giovanna abbiamo raccontato ci hai raccontato la vicenda personale di questa ragazza figlia della sua terra della Sicilia di una terra difficile e contrastata del suo incontro con Borsellino il suo transito per Roma arriviamo a capire in quella fatidica data in cui morì. 26 luglio 1992 una settimana dopo la strage di Via D'Amelio noi abbiamo provato a ricostruire all'interno di questo libro l'ultima settimana lo sconforto il dramma di Via D'Amelio è quelle immagini che scorrono che tutti noi ricordiamo viste da una 17enne che aveva riposto tutta la sua vita nelle mani del giudice Paolo Borsellino io non voglio entrare troppo diciamo nel dettaglio però quello che vi posso dire è che quell'appartamento viene assegnato dall'allora alto commissario antimafia perché non esisteva ancora il servizio centrale di protezione viene assegnato ufficialmente un giorno prima della morte di Rita il 25 luglio del 1992 ad aspettare Rita e la cognata Pieragliello in procura al tribunale per una nuova testimonianza diciamo così era la sostituta l'ex sostituta procuratrice Alessandra Camassa le avrebbe dovuto sentire il lunedì Rita aveva deciso che non sarebbe andata e lo aveva anche comunicato alla cognata che però prende quell'aereo e va giù in Sicilia Rita resta da sola e ci sono delle ricostruzioni un po' contrastanti di certo c'è che Rita viene trovata con indosso una vestaglia un pigiama in quel caldo e affoso 26 luglio sul marciapiede di Viale Amelia in quell'appartamento dicono le indagini dei carabinieri affidate all'arma dei carabinieri non sarà trovata nessuna impronta di Rita Rita da qualche parte deve pur aver dormito una sola impronta un'impronta digitale viene trovata nella parte diciamo interna della finestra dalla quale si sarebbe lanciata dal settimo piano del numero 23 di Viale Amelia i carabinieri chiederanno al magistrato competente al magistrato incaricato delle indagini la comparazione di quell'impronta giusto per dire di chi è a chi appartiene non sarà mai fatta la comparazione quindi noi dell'unica impronta oggi 30 anni dopo non possiamo neanche dire di chi fosse non abbiamo neanche la certezza che fosse di Rita Atria vengono a un certo punto disposti dei sequestri e dei dissequestri di questo appartamento almeno tre ne abbiamo calcolati in piena notte perché dissequestrare un appartamento sul quale si concentrano delle indagini in piena notte e perché poi risequestrarlo esattamente il giorno dopo in quell'appartamento viene trovata una scritta questo lo ricostruiamo nel dettaglio all'interno del libro una scritta che viene vista dalla cognata Pier Aiello viene vista anche dal magistrato dall'ex sostituta procuratrice Alessandra Camassa che dalla Sicilia arriverà il giorno dopo a Roma anche un po' per rendersi conto di quell'appartamento di dove viveva a Rita ebbene i carabinieri quella scritta non la vedranno non la vedranno non la vedranno né il carabiniere che per primo entra in quell'appartamento attorno alle 15.30 del 26 luglio del 1992 non la vedranno neanche i carabinieri della scientifica allora si chiamavano CIS oggi si chiamano RIS che sono chiamati a repertare quanto più possibile a congelare quella scena quindi ci sono diversi aspetti quando prima parlavamo di punti interrogativi di domande che restano sospese ci riferiamo proprio a questo e non solo perché c'è qualcuno che ha sentito delle voci proprio quel pomeriggio qualcuno che in qualche modo ha assistito a questo chiamato suicidio che poi di fatto come dici tu i punti non combaciano questa persona è Lucia Rossi e questo servizio è di Simone Dascenzi e Serena Cirilli era una domenica di luglio e mi trovavo a pranzo con i miei figli a un certo punto abbiamo sentito dal palazzo di fronte delle urla diciamo che bisticciavano due persone abbiamo dato uno sguardo però non abbiamo visto nessuno e però dopo pochi minuti si è sentito un tonfo e così ci siamo affacciati e abbiamo visto che c'era un corpicino lì per terra io di corsa sono uscita e sono andata giù di sotto in strada per vedere che cosa era successo e c'era una signorinetta per terra e purtroppo quando gli ho chiesto che cosa era successo e come si chiamava sempre accarezzandola perché era talmente giovane che faceva tenerezza e lei però non mi ha potuto rispondere perché ormai rantolava nel quartiere non se ne parlava molto di questo accaduto però poi trovandomi a parlare con una signora che mi aveva visto in televisione e mi ha raccontato che lei si trovava a stendere i panni quella domenica e a un certo punto si è sentita alle spalle come un vortice e poi si è affacciata per vedere che cosa stava succedendo sicuramente avrà sentito anche lei il tonfo e affacciando si è visto che il fermaglio della coda di Rita si era fermato su un paletto dell'acqua diciamo che scorreva dal palazzo è rimasto lì per un po' di tempo penso quel fermaggio questa targa la potete ancora vedere se passeggiate a Roma se capitate in via Lamelli al numero 23 un quartiere popolatissimo il quartiere tuscolano quella targa è ancora lì presente in un'aiola con dei fiori non solo per ricordare quanto è successo ma per interrogarci sul come è successo su tutti gli aspetti che rimangono bui ma soprattutto per interrogarci anche sul nostro presente di oggi è una storia che deve continuare a parlare Rita aveva soltanto tra virgolette 17 anni era una minore tra l'altro qui potremmo aprire anche un altro capitolo come era possibile permettere ad una minorenne di andare a vivere da sola quindi questo del tribunale per i minorenni è un altro capitolo enorme Rita ancora oggi ci interroga perché lei nel suo diario lo scrive è da qui anche che nasce il titolo io sono Rita senza il cognome che rimanda a che cosa ha fatto mio padre alla mia famiglia mafiosa al padre boss io sono Rita e basta ognuno di noi deve essere conosciuto soltanto per quello che è e non marchiato etichettato ecco questo è anche il grande insegnamento e poi il coraggio è quello che ci lascia ancora oggi e che probabilmente interroga interroga ognuno di noi perché se anche un giorno non dovessimo avere una verità giudiziaria quindi stabilita da un giudice all'interno di un tribunale che si abbia e questo lo dice anche la sorella almeno una verità cerchiamo di capire che cosa è accaduto guardate da quell'appartamento da quella stanza scompare anche un'altra cosa molto importante che è la sua agenda con all'interno i suoi contatti Rita aveva conosciuto tante persone ha trascorso circa sei mesi a Roma sotto protezione sotto tutela dello Stato quell'agenda scompare perché un anonimo commissario ispettore di polizia funzionario di polizia inoltre scriverà una richiesta al magistrato io ho sottoscritto funzionario di polizia con una sigla illeggibile chiedendo l'agendina di Rita il magistrato gliela darà non c'è neanche una copia fascicola almeno noi non l'abbiamo trovata e questo sarebbe utile interessante per capire quali sono stati i contatti e chi ha bisturita nelle ultime ore della sua vita e questo è importante anche per ricostruire un po' quello che voi fate tra l'altro nel libro quelli che erano i mesi prima e i mesi dopo quella trattativa Stato-Mafia che ci portiamo ancora avanti nelle carte nei processi in quelle verità che talvolta non ci sono ancora e che immagino se ti posso fare una domanda personale Giovanna tu ti porti anche nel tuo lavoro l'abbiamo detto sei una giovane giornalista sei siciliana vivi qui a Roma però questo libro scritto con ovviamente altre persone racconta un po' quella che è il tuo impegno la tua vita e il tuo essere giornalista sì con con le altre amiche perché siamo diventate amiche siamo amiche a un certo punto ci siamo chieste che cosa possiamo fare con il nostro mestiere cioè qual è il contributo che il giornalista in una società democratica in uno Stato democratico può dare Pippo Fava io l'ho citato prima diceva io ho un concetto etico del giornalismo perché è un giornalismo etico impedisce le corruzioni tiene allerta le forze di polizia le forze dell'ordine le autorità giudiziarie bene noi nel nostro piccolo abbiamo voluto dare il nostro contributo e poi ci siamo imbattute lo avrete sicuramente visto nella voce del latitante Matteo Messina Denaro l'abbiamo fatto sempre con l'impegno di chi è andato a diciamo spulciare in quegli archivi polverosi è quel giornalismo etico che consente di dare corpo a quelle parole di Rita quando diceva dobbiamo innanzitutto sconfiggere la mafia dentro di noi se vogliamo cercare di affrontare questo nemico esteriormente sì proprio così sconfiggere la mafia che è in noi per poi andare insomma a combatterla ed è questo l'insegnamento della 17enne rivolto tra l'altro io credo anche a tutti i giovani per cui dalle nuove generazioni a quelle che non hanno vissuto quegli anni terribili ma che si ritrovano con il suo diario e si ritrovano con una testimonianza così noi ti ringraziamo Giovanna Cucè per averci portato Rita quindi io sono Rita Rita Atria settima vittima di Via D'Amelio ringraziamo te ringraziamo Nadia Furnari e Graziella Proto vi ricordiamo questo libro e grazie grazie a voi noi a quest'ora sono le 7.58 e 21 secondi guardiamo gli occhi al cielo prima però per ricordarvi che in questo studio tornerà la musica ci sarà Giovanna che farà un ricordo di Franco Gatti scomparso da poco dei ricchi e poveri ma prima occhi al cielo meteo grazie a tutti